buongiorno a tutti quanti ben ritrovati sul canale in questo nuovo video chi non si iscrive al canale non arriva al canale bravi 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 vuol dire che il video di ieri ve lo siete visti quindi che dire mettete mi piace condividete e soprattutto iscriviti due click sono iscriviti attivi la campanella e metti mi piace basta io sono contento così oggi si ricomincia coi mondiali a breve inizia croazia brasile forza se le sao ho digerito forza se le sao io voglio vedere il brasile che va agevolmente in semifinale e questa sera non tutti uniti contro l'argentina ma quasi voglio vedere quelle due persone lì non voglio c'è bisogno neanche che faccio il nome voglio vedere con le due persone lì che soffrono perché l'argentina non ce la fa ma secondo me anche facendocela arriva in semifinale col brasile e il brasile secondo me gli fa un bucio del culo così un bucio del culo a tarallo glielo deve fare quindi ma come vedete dalla copertina di questo video non voglio parlare di questo voglio parlare finalmente a bemus papa abbiamo il nuovo numero 12 nuovo numero 12 svincolato quindi parametro zero italiano più giovane di quello attuale è più forte di quello attuale quindi voglio dire upgrade perché è difficile tutta rusano non si è dimostrato molto all'altezza io l'ho soprannominato l'albero perché l'albero ragazzi sta così con i suoi rami velo fermo per secoli dei secoli così ad andare giù fa come dire il così piano 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 quindi sportiello un gran bel portiere marco sportiello dall'anno prossimo è il nostro nuovo numero 12 come detto e poi tra l'altro è di desio che è qui dietro casa mia questa cosa non la sapevo ha sempre giocato in italia alla fiorentina me lo ricordo ma la fiorentina se non sbaglio fece il secondo di tatarusano non vorrei dire una castroneria ma credo che quell'anno lì tatarusano era il primo e sportiello del suo secondo brutta come cosa fare il secondo a tatarusano deve essere brutta non lo voglio insultare tatarusano però cioè ragazzi si è dimostrato non all'altezza parliamoci chiaro dai impegno ce lo mette sempre ma il suo impegno è così cioè più di quello non può dare tatarusano parliamoci chiaro dai dracula io l'ho sempre però io spero che dopo questi sei mesi stretta di mano grazie di tutto e arrivederci grande la parata dell'anno scorso rimarrà negli annali perché c'è anche il suo zampino sullo scudetto stretta di mano un abbraccio anche ma arrivederci e compriamo prendiamo un perché non l'abbiamo comprato un parametro zero prendiamo un portiere che questi anni sta dimostrando veramente che la la può valere perché sta facendo il secondo di musso ed è vero musso è più forte ovviamente un gran bel portiere musso cioè se fosse andato i mondiali sarebbe il titolare dell'argentina però sportiello quando quando gioca ragazzi è a me a me è sempre piaciuto sempre piaciuto vi dicevo ho giocato nel frosinone me lo ricordo un anno di serie a dove prese gol a balanghe da chiunque poi fece forse il secondo di tatarusano dopo vado a controllare ma penso di non dire una cacata e poi è il carpi me lo ricordo mi ricordo il primo sì in serie a col carpi cioè mi ricordo che ha giocato al carpi ma non mi ricordo se era in serie a o in serie b penso in serie a quindi che dire viene dall'atalanta un portiere preparato più giovane per un discorso di liste secondo me questo è stato un acquisto per un discorso di liste perché di secondi portieri io non so perché ma di portieri italiani ce ne sono proprio tanti minimamente gollini che capisco che prende troppo di stipendio perché è di proprietà del tottenham prende non so quanti soldi prendo penso tre milioni di euro quindi capite bene che per un secondo portiere tre milioni di euro non si può non si può sentire ma soprattutto cragno io avrei preso cragno non voglio fare sempre quello che dice si lamenta di va bene va benissimo sportiello però secondo me cragno che fa il secondo con tutto il rispetto di gregorio al molsa io l'avrei preso e in porta sarei stato proprio a posto per i prossimi dieci anni perché cragno sinceramente dei portieri quelli sul mercato è assolutamente il più forte però ovviamente anche quello va pagato il minano ha preferito fare questo discorso a parametro zero l'annuncio è praticamente ufficio non c'è l'annuncio ma è praticamente ufficiale però sono contento sono contento è comunque un upgrade ci voleva ben poco si sta parlando di tataro usano non di courto soprattutto sportiello ecco voglio vederlo l'anno l'anno prossimo voglio vederlo il meno possibile il che vuol dire che magnan non si fa male perché sono due le stagioni con questa di magnan l'anno scorso si ruppe lo scafoido si operò un mese e mezzo no da ottobre no da ottobre mia tataro usano si è giocato si è giocato novembre mi ricordo e inizio dicembre torniamo magnan quindi due mesi l'abbiamo perso l'anno scorso un mese e mezzo quest'anno direi anche perché per un portiere possa anche bastare quindi sono contento che sia venuto ma spero l'anno prossimo di vederlo il meno possibile marco sportiero tra i pali l'annuncio secondo me ci sarà dal primo febbraio quando potrà firmare da svincolato però l'accordo è pressoché trovato adesso non so quanti su quanto siano le cifre del dello stipendio ma secondo me a breve usciranno l'ho voluto fare quando vi se ne parlava già da giorni di questo di questo affare però ho voluto aspettare che le cose siano praticamente ufficiali per fare questo nuovo video e questo video l'avevo fatto l'avrei voluto fare scusate sicuramente perché Tatarosano nei primi video l'ho pesantemente criticato che dire niente penso di aver detto tutto questa sera se esce l'argentina no mi sa che lo dovrò fare per forza il secondo video perché di sicuro se vince l'argentina ad anni si esalta se perde l'argentina devo fare un video contro l'argentina ma non perché mi sta antipatica proprio perché avevo detto quelle due persone lì devono devono piangere non di sofferenza voglio vedere che che dio li punisce voglio vedere messi uscire ma non perché mi sta sulle palle lui perché voi immaginatevi cosa voglio dire messi che alza la coppa del mondo cassano si cassano si mette in croce ad anni penso che si taglia la barba le capelli in diretta con rasoio quindi io queste cose qua non le voglio più vedere il video di oggi finisce qui il video pomeridiano ci vediamo questa sera qualsiasi cosa sia qualsiasi risultato uscirà fuori da olanda argentina ricordo ancora iscrivetevi attiva la campanella sono due click condividi e metti mi piace ciao a tutti e a dopo forza brasile ciao a tutti